Torna al successo il Montevarchi battendo 3-1 il fanalino di coda a Pontassieve, una gara controllata senza Patemini, la prima frazione portata al termine con qualche sofferenza nel finale, ancora protagonista Giuseppe Sguera, due gol per lui, sempre più cannoniere rosso-blu. Un po' per necessità, un po' per scelta, Gianni Picchioni cambia molto nella formazione iniziale rispetto alle ultime uscite, priva di Mori ed Ezechielli, squalificati e pellegrino infortunato. L'Aquila si schiera con un 4-3-3 classico, con Bartoli al centro della difesa, arraspanti sull'auto di sinistra. Corsi arretrato come vertice basso e mediana, Cuccoli, perno dell'attacco, supportato sulle corsie da Rossi e Sguera. Prima panchina stagionale invece per Brocci e Renzi. Nel Pontassieve, ultimo della classe, spicca la presenza del figlio dell'ex tecnico aquilotto Marco Brachi, presente sugli spalti del Brilliperi. In avvio gli ospiti palesano tutti i loro limiti difensivi e il Montevarchi ringrazia. Sono passati solo tre minuti quando Sguera approfitta dello svarione di Brachi e calcia con violenza verso la porta. Manzini è tutt'altro che impeccabile e l'Aquila si porta subito in vantaggio. Passano altri tre minuti e il Pontassieve sprofonda. Combinazione tra giovanissimi, il classe 97 Raspanti-Crossa e il classe 96 Mannella di testa, sembra già mettere la parola fine sull'incontro, segnando il suo primo gol tra i grandi. Tutto troppo facile. Le insidie arriveranno nella ripresa. Il primo tempo, al contrario, è poco più di un allenamento per il Rosso-Blu. Oggi in casacca bianca è a tal punto che poco prima del riposo Sguera ha servito da D'Averi. Mette a lato di un soffio un tocco morbido che avrebbe messo in cassaforte i tre punti con 45 minuti di anticipo. Nel secondo tempo, invece, arriva la reazione che non ti aspetti. Al cinquantesimo il Pontassieve torna in partita. Buona l'azione di rimessa degli ospiti, ma imperdonabile l'amnesia di Bartolozzi, superato con troppa facilità da Focardi, il migliore dei suoi. Bobini non può nulla e la gara torna in discussione. A quel punto, seppur attanagliato dall'obbligo di vincere, il Montevarchi torna a capofitto in avanti collezionando palle gol. Il primo a provarci è Mannella, imitato con identici risultati al cinquantacinquesimo da Rossi, numero undici Rosso-Blu, che lascia il campo al sessantatreesimo insieme a D'Averi per far spazio a Nofri e Baldini. Come a Subbiano, l'ex Ambra ha subito il pallone giusto per entrare nel tabellino dei marcatori. La sua conclusione, però, risulta priva di precisione e soprattutto priva di coraggio. Dall'altra parte, il Pontassieve attende Sornione l'occasione giusta, che arriva al settandunesimo. Bobini mette una pezza sulla prima bordata di Focardi, ma deve avvalersi del fondamentale aiuto di Bartoli. Ottimo, soprattutto nel secondo tempo, per murare in corner il successivo tapin di Vestri. Tutto al brilli peri tira un sospiro di sollievo. A quel punto, Picchioni inserisce anche Renzi, che poco dopo si unisce alla lista delle occasioni fallite. Esterno destro pregevole il suo, ma ancora una volta manca la precisione. A regalare un finale tranquillo, all'Aquila ci pensa il solito Sguera. Veloce nel rincorrere il tocco di Nofi e l'esto nello sfruttare un'altra indecisione del portiere ospite. Nella fuga con cui il capo cannoniere Rosso Blu ribadisce la palla in rete, c'è tutta la tensione della complicata settimana post-Subbiano. Per Sguera già cinque centri in campionato, tutti tra le mura amiche. Nel proseguo c'è tempo solo per l'espulsione dell'ex Meacci. Poi Bertini di Lucca dice che può bastare così. L'Aquila supera 3-1 il Pontassieve, grazie ai risultati dagli altri campi, accorcia le distanze dalla vetta.